I Santi non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da Dio che respirano come tutti l'aria inquinata dal male che c'è nel mondo, ma camminano sul tracciato delle beatitudini, la mappa della vita cristiana. Così Papa Francesco nell'Angelus in occasione della solennità di tutti i Santi, una festa di famiglia, di persone semplici, i Santi della porta accanto, che aiutano Dio a mandare avanti il mondo perché chi è con Gesù è beato e felice. Invitando a ricordare nella preghiera la commemorazione dei defunti, dopo l'Angelus il Papa ha lanciato un importante appello. Sono addolorato per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di violenza prego per i defunti, per i feriti e i loro familiari. Chiediamo al Signore che converta i cuori dai terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla folia omicida che abussa del nome di Dio per disseminare morte. Grazie. 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 Grazie.